a te che stai leggendo questa pagina regalo una rosa perché tu possa sentirne il profumo dolce ed estivo per ammirarne il colore unico e perfetto per capire che le spine ci sono ma basta saperle maneggiare per farle essere innocue per scoprirne il cuore prezioso perché i petali possano accarezzarti e spingere via la tristezza e il gelo qualunque cosa ti stia capitando per farti compagnia come fece il piccolo principe ti regalo una rosa perché io stesso avrei bisogno di qualcuno che mi lasci scoprire tutto questo perché a volte mi capita di essere giù e pensare che ho ancora la possibilità di ricevere la mia rosa mi dà forza mi fa andare avanti mi permette di non arrendermi perché io non voglio arrendermi mai la rosa cos'è per me un piccolo pensiero nulla più ma a volte penso che è di questo che abbiamo bisogno di un pensiero d'amore grazie a tutti grazie a tutti